Le falde non sono state ricaricate in inverno e adesso paghiamo il prezzo di avere poca acqua. Però diciamo che noi ci siamo attrezzati fin da subito perché a marzo abbiamo cominciato a mandare autobotti nel nostro territorio montano. Altissimo, San Pietro Mussolino, Nogarole, Crespadoro, sono questi i comuni dell'Alta Valle del Chiampo dove l'acqua potabile arriva solo con le autobotti. Qui il commissario per emergenza idrica Luca Zaia ha destinato fondi speciali per ottimizzare la rete di distribuzione. Hanno destinato 250 mila euro perché mettessimo in piena funzionalità gli esorgenti dell'Alta Valle. Altri 125 mila per intervenire a valle sulle interconnessioni sulle reti idriche. Al momento non sono stati definiti gli importi supplementari per l'erogazione con le autobotti che potrebbero aggirarsi intorno ai 200 mila euro. Da oggi intanto è entrato in vigore in questi comuni il divieto dell'uso improprio dell'acqua potabile destinata solo ad usi essenziali. La posizione di acqua del Chiampo e di sindaci è che l'acqua è un bene prezioso, l'acqua deve soprattutto essere destinata al consumo umano. Noi siamo in un distretto conciario dove ogni giorno viene consumata una quantità enorme d'acqua per le lavorazioni. Quindi ci siamo sentiti in dovere anche spendendo cifre importanti con autocisterne di garantire l'acqua anche a questi cittadini. E dirò di più, siamo intenzionati ad andare avanti finché sarà necessario. Quindi secondo le nostre previsioni arriveremo tranquillamente a ottobre. Ieri con i sindaci si è concordato di non adottare la distribuzione idrica a fasce orarie, ma tutti sono chiamati a lottare contro gli sprechi. L'acqua è il bene principale per la vita umana, è preziosa e bisogna usarla con criterio, ma pensando anche che quella che spreco io non può usarla un altro. Quindi bisogna essere solidari anche mentalmente e anche nei comportamenti. Quindi noi faremo il possibile per sopperire i fabbisogni, però i cittadini devono collaborare.